I carabinieri della compagnia di Messina Centro, supportati da due equipaggi del locale nucleo radiomobile, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pregiudicato di origini nigeriane, resosi responsabile di una vile imboscata ai danni di una coppia di giovani che si erano recati al mare nei pressi dei resti dello storico monumento Real Cittadella, in località San Raineri. I militari si sono recati sul luogo del delitto a seguito della chiamata al 112 da parte di una donna, la quale, allertata dalle strazianti richieste d'aiuto dei due giovani, era prontamente giunta in loro soccorso. Sul posto i militari apprendevano che poco prima la coppia era stata aggredita alle spalle da un uomo di colore che, brandeggiando un coltello e sottraendo con violenza alle vittime le macchine fotografiche di cui disponevano, approfittava della momentanea assenza del ragazzo corso a reperire del denaro da consegnarli per strattonare brutalmente la giovane donna in un anfratto, tentando di abusarne sessualmente. I carabinieri nell'immediatezza dei fatti si sono recati nei ruderi indicati dai testimoni, rintracciando e bloccando l'aggressore, un 31enne nigeriano già destinatario di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L'uomo è stato ristretto presso il carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.